Dunque, innanzitutto io vorrei, io l'ho sempre detto, che questa discussione sul luogo ha un suo grado di surrealtà per il semplice fatto che non è che un sinedrio di persone seduto in un posto sia stato chiamato a interrogarsi dove lo facciamo un museo del fascismo? Allora lo facciamo a Roma, a Napoli, a Bologna, a Predappio e quindi questo sinedrio che doveva scegliere dove farlo ha deciso di farlo a Predappio. No, il peccanismo è differente, Predappio, la comunità di Predappio che è un luogo simbolico del fascismo, essendo il luogo di nascita del dittatore, e un luogo simbolico del fascismo come memoria storica dentro la Repubblica, perché è luogo di prelegrinaggio alla tomba di Mussolini che è stata trasferita nel 57 nel cimitero cittadino, ha deciso di rispondere alla nostalgia, al nostalgismo fascista che è imperversa in quella città con un'operazione culturale. Il comune di Predappio ha chiesto alla comunità scientifica di cimentarsi con questa sfida, cioè si può fare di Predappio il luogo dove si dà una risposta alta che riguarda la nostalgia di quelli che vanno a Predappio, ma riguarda la memoria controversa che c'è nel fascismo nella società italiana con un'iniziativa culturale di alto profilo. A questa domanda alcuni storici hanno risposto sì e altri hanno risposto no sulla base del fatto che Predappio non era il posto ideale, ma era meglio farlo a Pialazza Venezia, era meglio farlo a Milano, era meglio farlo da un'altra parte. Se non che nessuno ipotizza, nessuno vieta che se un domani l'amministrazione capitolina di Roma decide di dedicare Palazzo Venezia a fare il museo del fascismo, noi diremmo no. Il problema è che non esiste un'alternativa, o si fa a Predappio o non si fa nulla. E siccome riteniamo che la sollecitazione che proviene dalla comunità di Predappio sia una cosa seria, un gruppo di studiosi, ma anche la rete degli istituti della resistenza dell'Emilia Romagna, ha risposto positivamente a questa sollecitazione. Poi c'è il secondo punto, che fascismo raccontare? Allora su questo bisogna intendersi, perché la logica che sottende a questo rifiuto, a questa critica, ai dubbi, riguardano l'idea che non si possa ricordare culturalmente, non si possa affrontare culturalmente il fascismo senza inevitabilmente cascare in una logica afascista, in una logica di comprensione, in una logica di accettazione, in una logica di confusione, diciamo così, tra le ragioni dei vinti e le ragioni dei vincitori. È ovvio che sarà un centro di documentazione e di interpretazione condotto con rigorosi criteri scientifici, e i criteri scientifici in Italia non hanno prodotto, se non, diciamo, chiavi di lettura che non mettono in discussione la critica morale, il rifiuto nei confronti di quell'esperimento. Quindi non siamo in una città dove è incerto il profilo antifascista sia dell'amministrazione, sia del messaggio che questa città ha dato nel tempo a questa vicenda che la riguarda drammaticamente. cioè di essere luogo di pellegrinaggio del neofascismo. Questa è una contraddizione che chi ha fatto il museo si è assunto come tale.